John Borno ragazzi, John Borno, allora mancano dieci minuti però volevo vedermela con voi l'immobile challenge, ma che cos'è l'immobile challenge ragazzi? L'immobile challenge è quello di riuscire a far segnare immobile noi ci provammo con i turbi anni fa in Europa League e non ci riuscimmo ma credo che l'Italia è sulla buona strada per fare la stessa cosa della Roma non riuscire a far segnare immobile oggi immobile ci ha provati in ogni modo, de piede, de testa, de tacco, de coscia, de punta è il tacco, è la punta, è la punta, è il tacco, è de stinco, è de bucio de culo ma la palla ragazzi non entra e non perché non è cattiveria io da italiano faccio il tifo per Ciro immobile e poi mi sta anche molto simpatico come calciatore al di là del fatto che porti la casacca sbagliata dal mio punto di vista essendo io ovviamente della Roma, ecco si vede anche da qua però in nazionale, questo non esiste più in nazionale se siete tutti azzurri per quanto mi riguarda però ragazzi miei oggi immobile, veramente cioè, a parte che Crappi, Scrappi, Cass per chi non lo scarperà, no Crappi il portiere, il capere capa, la cazza la giocavano a Roma me lo ricordavo proprio perché giocavano nella Roma ha fatto penà nel quarto portiere e poi l'abbiamo frullato quindi figuratevi voi quanto potessi essere forte oggi ragazzi parando in modo molto goffo parando in modo molto Svedskauskas ecco come si chiamava Svedskauskas oh porca puttana eccomi scusate Svedskauskas ecco come si chiamava parando in modo molto goffo parando in modo molto ridicolo in ogni caso ha neutralizzato tutte le conclusioni di Ciro Immobile io vi dico la verità adesso stiamo vincendo 1-0 a me questo è quello che mi basta nel senso non me ne frega niente io non troverete mai me come uno di quelli che dice bisogna vincere le partite 7-0 a me me ne frega un cazzo di vincere le partite 7-0 io voglio vincere ecco se adesso su quest'azione della Lituania prendi gol è la volta buona che sbadacchio il telefonino sul tavolo e lo spacco con i pugni perché veramente non si può dopo che Immobile si è mangiato 40 gol però l'importante è vincere oggi siamo sinceri giocavi in un campo difficile non perché la Lituania sia forte anzi la Litu... madonna mia chi era? chi era? ancora Immobile mamma mia comunque stavo dicendo non perché la Lituania sia forte anzi anzi penso che i giocatori della Lituania l'abbiano presi eccolo l'ha parata ancora Sved Skauskas puttana Eva Sved Skauskas comunque vi stavo dicendo non perché i giocatori della Lituania siano forti anzi credo che l'abbiano pescati prima della partita fuori dallo stadio e e e la Lituania non c'è niente di bello non come città come squadra ma anche lo stadio visto che si i seggiolini giusto erano gialli e rossi però se i giolini tutti colorati gialli rossi verdi blu non se possono guardare sembrano quelli dell'Udinese mi dispiace per i divosi dell'Udinese ma sapete quello che penso io dei seggiolini tutti colorati che non se possono guardare fatto sta che 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 comunque il campo era difficile perché era un campo dei patate l'ha detto anche il commentatore ha detto a confronto il Manuzzi di Cesena è è veramente uno stadio di ultima generazione questo ragazzi faccio fatica a chiamarlo stadio lo sto ecco un'altra azione dell'Italia andiamo in avanti tra l'altro sembra di giocare quando quando attacchiamo palla al piano sembra di giocare alla play a a a facile praticamente a modalità a modalità no a modalità sterco d'uccello il problema è che poi però non la vedi la porta la difesa si taglia con un gressino e ci sono altri mille problemi vi dicevo il campo è è qualcosa di inguardabile è brutto in culo però però oggettivamente ragazzi tu la partita la devi portare a casa oggi hai faticato da morire dietro non mi è piaciuto bastoni non mi sta piacendo bastoni perché no perché secondo me ha fatto troppi svarioni ma veramente troppi e poi magari sono pronti gli interisti ma io ve lo dico ve lo ripeto sempre ragazzi a me mi fate ridere cioè quando io dico bastoni non mi è piaciuto vergogna pensa alla tua squadra questa è la mia squadra non mi rompete i coglioni bastoni non è un giocatore dell'Inter non è un giocatore dell'Inter anzi bastoni è un giocatore dell'Italia si voglio dire un giorno voglio dire stronzo a bastoni lo dico e non me ne frega un cazzo che è di proprietà dell'Inter è di proprietà della mia nazionale italiana punto punto quindi se io dico che bastoni non ha giocato bene sono liberissimo di dirlo e non dovete rompere i miei coglioni detto questo meno male che c'è Sensi che io non porterei all'Europeo perché manco l'ho riconosciuto quando ho fatto il video su chi porterei all'Europeo dalle facce dalla tier list non l'ho riconosciuto da quant'è che non giocava a pallone qualcuno molti me l'hanno scritto tutto si che era Sensi ma porca vacca come ha fatto non riconosce Sensi sono d'accordo non l'ho riconosciuto ma perché veramente Sensi non giocava dall'anni de Pierino però oggi ce l'ha decisa lui tra l'altro da grande trequartista qual è perché perché Sensi nasce trequartista poi si evolve diventa mezzala ma Sensi nasce trequartista e oggi l'Italia ricordiamolo era pure rimaneggiata in mezzo al campo perché aveva attenzione palla dentro regà non prendiamo col no traversa della Lituania ok apposta era in fuorigioco stavo dicendo a centrocampo ci mancava Barella ci mancava Verratti ci mancava Giorginio ha debuttato Toloi a me non mi è dispiaciuto Toloi certo facciamo veramente degli interventi a a a appena di Segugio perché veramente facciamo degli interventi inguardabili proprio a piede a piede a martello che in under 21 ce li avrebbero già spulsi tutti ma al di là di ciò Toloi secondo me non ha deluso le aspettative io non so se effettivamente Toloi potrebbe essere un calciatore di quelli da portare all'europeo anzi ho dei grandi dubbi su questo così come Pessina io non li porterei Toloi e Pessina se vi posso dire la verità poi ognuno la pensa come gli pare ho ricevuto anche parecchie crediche sulla mia scelta di non portare Pessina per me Pessina non è pronto al momento cioè ci sono mille no mille no però ci sono più centrocampisti rispetto a Pessina che porterei l'unica cosa che però mi sento di dire è che Pessina e Toloi sono due risorse importanti per Mancini perché Pessina lo puoi mettere praticamente dappertutto ala da una parte ala dall'altra mezzola da una parte mezzola da un'altra lo puoi mettere pure davanti a difesa dovunque gioca Pessina Toloi lo puoi mettere difensore centro-destra o centro-sinistra terzino a sinistra terzino a destra puoi passare a tre centrocampisti a difesa a tre centro-destra e centro-sinistra ragazzi miei Toloi dietro è un giocatore fantastico in più oggi secondo me ha dimostrato anche una certa maturità perché perché al debutto con la nazionale non è mai facile e perché questo è ciò che ciò che conta questo è ciò che importa sostanzialmente Pessina non mi è dispiaciuto vi dicevo è un altro giocatore che non mi è dispiaciuto nel primo tempo creiamo veramente poco sulle due fasce tant'è che finiamo il primo tempo sullo 0-0 e si prova a fare questo cambio si prova a cambiare Bernardeschi con il Sharawi nelle due fasce e quando c'è appunto il cambio fascia finalmente si gira poi oggi Svedskauskas ha preso tutto quello che poteva prendere va detto ve lo ripeto immobile ragazzi ma quanti col si è mangiato proprio che la porta era lì vuota uno di testa che la tira direttamente fuori certe volte resto sinceramente un po' deluso Donnarumma ci para il culo in un'occasione molto grande anche se poi Donnarumma sbaglia veramente tanto in disimpegno dovrebbe un attimo sta più concentrato Donnarumma in disimpegno perché visto che Mancini vuole tanto una costruzione dal basso l'abbiamo vista non si può regalare un pallone ogni dieci minuti ovviamente lo sapete io non come la penso non è che non vale il giochino di dire se lo fai con la Lituania va bene però se lo fai con la Francia prendi gol perché con la Francia magari non lo fai spero però che non lo faccia e devo dire che oggi Mancini ha dato un bel segnale a tutti i portieri che Donnarumma sarà il nostro portiere perché se tu giochi anche con la Lituania se gli altri portieri non vedono il campo nemmeno con la Lituania allora qualcosa vuol dire sta entrando Cerbi al posto di Bastoni sono contento del debutto del debutto dell'ingresso in campo oggi di Acerbi io da romanista lo dico tranquillamente credo che Cerbi potrebbe essere il giudatore più prezioso che avremo all'europeo e raga io ve lo dico preparatevi perché questo è l'ultimo test l'ultimo test reale ufficiale che conta che conti qualcosa prima dell'europeo perché il prossimo test vero reale perché adesso il prossimo step delle qualificazioni ci sarà a settembre ma il prossimo test è all'europeo fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto forza azzurri iscrivetevi mi raccomando al canale qualora non l'aveste già fatto io vi ringrazio per aver visto questo video tantissimi mi piace buasciano all'allene come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao